Insomma, è stato centrato l'obiettivo, la qualificazione per la Final Four. Tanti anni in Italia, è la tua prima volta in Final Four. Con quali emozioni ti prepari a viverla e quanto sei orgogliosa per la partita fatta questa sera? Sì, adesso sembro come una bambina piccola, no? Perché come ho detto, sono cinque anni a qua, però è la prima volta che vado in semifinale della Coppa Italia, quindi per me è veramente qualcosa grandissimo, anche per tutte le ragazze della squadra. Niente, sono felice. E' stata una partita molto equilibrata, cos'è che ha permesso a Novara comunque di vincerla? Secondo me, noi abbiamo stato bravi fino alla fine, quindi luttando punto a punto, quindi alla fine la vittoria si dimostra. Il tuo ingresso è stato importante per dare una carica in più e dare un po' più di peso all'attacco in una fase in cui Chieri sembrava essere tornata prepotentemente, ecco. Sì, 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 io era pronta comunque, perché non solo in questa partita, sempre sono pronta, perché mi piace che l'allenatore contenò con me, quindi era proprio carica e anche le ragazze in campo erano cariche, quindi era facile entrare in campo e fare bene. Ora adesso con grande carica vado ad affrontare un avversario molto forte come Conegliano. Sì, sì, adesso, vabbè, se stegliamo questa vittoria qua è un po' di... Osea, la testa attenta sull'altra partita, perché comunque sono con Eliano, Vero, Vero Monza e Scandici, quindi noi con la testa proprio concentrata. vorrei!